salve proprio youtube bentornati su shio ne sono neo geo 82 e questo è ecco z dolphin siamo qui per parlarvi di una nuova rubrica del nostro canale siccome ultimamente le live sono andate molto bene insomma ci siamo molto divertiti a farle abbiamo deciso di continuare questo trend aprendo una piccola rubrica a tema questa rubrica si chiamerà anzi si chiama già a tutto rogue abbiamo deciso di dedicarci praticamente per queste live a un particolare genere di videogiochi che ultimamente va molto di moda nell'ambito degli indie ovvero i cosiddetti roguelike in realtà non si tratterà di roguelike puri perché come sappiamo in realtà qualcuno di voi forse lo sa già i roguelike sono una cosa molto particolare qui in questa rubrica tratteremo quei giochi che hanno questi principalmente due elementi ovvero sono caratterizzati da una permadez e hanno dei livelli creati in maniera procedurale di solito sono sempre ovviamente action quindi faremo così ogni settimana faremo una puntata una serata quindi di solito del martedì sera se non ci sono sconvolgimenti dedicata a una facendo una live a uno di questi giochi questi giochi dovete però sceglierli voi attraverso un piccolo sondaggio che partirà dalla nostra pagina facebook e metterò il link qua sotto i primi tre giochi tra cui potete scegliere sono questi necropolis ovvero una sorta di action 3d che si arriva molto a dark souls nelle sue meccaniche di combattimento abyss odyssey ovvero un action side scroller da un stile grafico e dal combat system molto caratteristici e particolari e eldrick una sorta di roguelike in prima persona con una grafica che si rifà molto a minecraft ma che riprende la mitologia di lovecraft la prima puntata di a tutto rogue sarà questo martedì sera 7 febbraio le votazioni partiranno da adesso e saranno chiuse martedì mattina verso le 13 quindi se volete essere con noi venite a votare e mi raccomando non scordatevi di esserci martedì sera ci vediamo e a presto